In questi ultimi due mesi si è parlato a lungo di Cyberpunk 2077, numero 6 sono state infatti le notizie che hanno riguardato questo attesissimo nuovo progetto dei ragazzi di CD Projekt, anche grazie a tutta una serie di interviste, dichiarazioni e rivelazioni fatte proprio dal team di sviluppo. Approfittando di una recente affermazione riguardante la linea temporale in cui ha ambientato il gioco, ho deciso di fare un po' il punto della situazione di tutte le informazioni disponibili in giro. Se anche voi come me state aspettando tantissimo questo gioco, allora seguitemi nel resto del video perché magari qualche novità vi potrebbe essere sfuggita. E come al solito ricordate sempre di aggiungere il nostro canale YouTube ai vostri favoriti e poi di accendere la campanella così non vi perdete neanche una notifica. Partiamo dalla notizia più recente, una sorta di smentita messa in piedi da Mike Pondsmith, l'ideatore del gioco di ruolo Carta e Penna su cui è basato il videogioco di CD Projekt. Un'intervista errata, pubblicata online e non ancora corretta, sembrava infatti confermare che Cyberpunk 2077, il videogioco, sarebbe stando ambientato in una linea temporale differente da quella di Cyberpunk 2020, il gioco cartaceo originale. Pondsmith ha però sottolineato che non è affatto così visto che i due progetti condivideranno la medesima timeline che risulta essere quindi unificata, anche se ovviamente sarà basata su due periodi temporali distinti e adeguatamente lontani. Niente universi paralleli o realtà alternative ma la stessa identica ambientazione, comprensiva di fazioni, scenari, società e magari anche personaggi, con soltanto qualche anno in più sulle spalle. Dobbiamo invece a Matteus Tomaschiewicz, il quest director di Cyberpunk 2077, tutta una serie di nuove informazioni e dettagli sulle emissioni del gioco, che ha letteralmente centellinato nel corso di diverse interviste. Innanzitutto Tomaschiewicz ha voluto sottolineare come le quest di Cyberpunk 2077 rappresentino un nuovo punto di riferimento nella storia del team, che tra l'altro già aveva stupito il pubblico per l'eccellente qualità di quelle presenti in The Witcher 3. Le missioni non saranno infatti soltanto più varie, ma offriranno un gameplay completamente non lineare. Non si tratta solo di una questione di scelte e conseguenze che riguarderanno le decisioni che il giocatore dovrà prendere, ma cambierà proprio come ci si potrà approcciare a queste missioni, visto che tutte offriranno molteplici modi per essere affrontate e completate, in funzione di come è stato creato il giocatore, di quali sono le sue abilità, gli strumenti a sua disposizione, dei personaggi con cui ha interagito e così via. Tomaschiewicz ha parlato di almeno 3-5 differenti modi per affrontare ogni missione o alcune sfide interne alle varie quest. Il gameplay sarà quindi fortemente non lineare e si allontanerà con forza da quanto sperimentato nella serie The Witcher. Inoltre lo svolgimento e l'esito di queste missioni non potrà mai comportare il game over, ma semplicemente dovremo convivere con i risultati delle nostre azioni, anche se queste saranno raffazzonate o comunque maldestre. Possiamo immaginare le classiche missioni di scorta oppure quelle in cui dovremo raggiungere un determinato obiettivo entro un periodo di tempo limitato. Ecco, è possibile che in casi come questi il fallimento degli obiettivi non obblicherà il giocatore a ripetere la missione oppure a beccarsi la schermata del game over, ma semplicemente la storia andrà avanti tenendo conto della nostra incapacità, che magari avrà conseguenze più o meno drastiche sul mondo di gioco. Stando alle parole di Tomaschiewicz, il game over vero e proprio si avrà soltanto nel momento in cui il nostro protagonista morirà. In quel caso dovremo probabilmente ricaricare un salvataggio o un checkpoint precedente e riprovare. Tra l'altro, proprio parlando di strumenti a disposizione del giocatore, Tomaschiewicz ha sottolineato come l'arsenale sarà davvero ricco e variegato. Pur rimanendo di fondo un gioco di ruolo, Cyberpunk 2077 sfrutterà a piene mani le caratteristiche degli shooter, proponendo tantissime armi con funzionalità molto diverse, come ad esempio il fucile con munizioni intelligenti che si è intravisto durante la presentazione dello scorso E3. Grande spazio sarà dato anche al combattimento corpo a corpo, con numerose armi contundenti e da taglio che ben si prestano alla visuale in prima persona. Insomma, anche su questo fronte sembra proprio che CD Projekt non si stia risparmiando, con il preciso obiettivo di realizzare un titolo vastissimo e colmo di opportunità. Ma in concreto, quando diavolo riusciremo a giocare questo Cyberpunk 2077? Beh, questa è un po' la domanda da un milione di dollari a cui è difficilissimo rispondere. Innanzitutto sappiamo che lo sviluppatore sarà presente in forze anche alle 3 di quest'anno, che vi ricordo si terrà dall'11 al 13 giugno a Los Angeles, più qualche giorno prima per le varie conferenze. Ovviamente noi di Multiplayer.it saremo lì, belli pronti a seguire come di consueto l'evento. Adam Kicinski, l'amministratore e delegato della società, ha sottolineato che proprio le 3 di quest'anno sarà il più importante della storia di CD Projekt. Il perché non lo sappiamo, ma possiamo fare qualche ipotesi. Prima di tutto è scontato che vedremo una nuova, colossale presentazione di Cyberpunk 2077 di almeno 45 minuti di durata, esattamente come è successo lo scorso anno. Durante alcune interviste il team ha sottolineato quanto il gioco sia cambiato in questi mesi e credo che la prossima presentazione mostrerà maggiormente nel dettaglio l'open world e come il giocatore potrà influenzarlo nel corso delle sue missioni. Tra l'altro moltissimi giocatori nutrono ancora dei dubbi sulla natura da shooter di questo progetto e credo che sia compito di CD Projekt far vedere come l'elemento ruolistico, con i vari danni, le statistiche e le abilità, si amalgami alla perfezione con uno stile di combattimento che per forza di cose non potrà essere troppo frenetico o irrealistico. Uno scenario come quello delle 3 è praticamente perfetto per fissare sul calendario quando il titolo arriverà sul mercato e lanciare anche la campagna di preordini, magari con i primi dettagli sull'immancabile Collector's Edition. Di recente un rivenditore slovacco ha parlato di un'uscita prevista per il 28 novembre 2019, esattamente il giorno del ringraziamento americano. A parte la difficoltà di distribuire il gioco in un giorno di festa, continua a essere molto scettico per un'uscita entro la fine di quest'anno. Io credo che marzo 2020, o ancora meglio maggio 2020, nella stessa finestra di lancio di The Witcher 2 e The Witcher 3, possa essere più alla portata di CD Projekt. E tra l'altro, far l'uscita al ridosso dell'estate vuol dire anche avere abbastanza tempo per preparare un enorme patch di potenziamento e miglioramento in vista dell'uscita di PlayStation 5 e della prossima Xbox, che molto probabilmente arriveranno sul mercato a Natale del 2020. Sicuramente Cyberpunk 2077 sarà rilanciato in quell'occasione, approfittando del clamore che le nuove console si porteranno dietro. Voglio però spingermi ancora oltre con le ipotesi. Stando ai recenti risultati finanziari del team e alle parole del suo amministratore delegato, CD Projekt sarebbe pronta a lanciare sul mercato ben due titoli AAA entro la fine del 2021. Se uno è ovviamente Cyberpunk 2077, l'altro cosa potrebbe essere? Magari lo spin-off di The Witcher interamente dedicato a Siri che tutti desideriamo ardentemente? O magari un prologo alle avventure di Geralt focalizzato su qualche altro Witcher? O addirittura un episodio direttamente connesso con la serie Netflix prevista per la fine dell'anno? Insomma, le ipotesi sono davvero moltissime e se CD Projekt durante queste tre dovesse mostrare Cyberpunk 2077, annunciare la sua data di uscita, confermare il suo rilascio su PS5 e la prossima Xbox e mostrare qualcosa di inedito ambientato nell'universo di The Witcher, allora saremmo sì davanti alle tre più importanti di sempre per la società polacca. Ci separa appena un mese dalla fiera di Los Angeles, siete eccitati anche voi come me? E cosa sperate faccia vedere CD Projekt? Fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto e se state guardando questo video su YouTube mettete un bel mi piace, che fa sempre piacere. Ciao e grazie.